Il presidente del Consiglio regionale, Sandra Leonardo Mastella, sabato scorso è stata in visita non ufficiale nel Vallo di Diano. Nel corso della sua giornata ha voluto far visita anche al centro di urno per l'assistenza ai disabili Michelina Garone di Sala Consilina, dove i ragazzi insieme a Don Vincenzo Federico, al sindaco Getano Ferrari e dai giovani che hanno prestato servizio con il servizio civile stavano tenendo una festa proprio per salutare questi ultimi al termine della loro esperienza. Il fuori programma ha visto così il presidente Leonardo prendere parte alla festa. Il presidente del Consiglio ha avuto anche modo di apprezzare l'ottimo lavoro svolto all'interno della struttura da parte degli operatori e dei volontari del centro Michelina Garone, che costituisce uno dei fiori all'occhiello e dei punti di riferimento per quelle famiglie che hanno nel proprio nucleo un ragazzo diversamente abile.